... ... ... a noi si è sempre comunicato ... ... ... ... ... ... mi senti che questi figli dimostrano a noi che o quanto lo prendo io? c'è qualche amico che non si conosce? diretti conoscenze? ci sono? salve salve vado per tutti salve 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 Io sono questo il passo, sono le scelte di capire, sono la verità di quello che dice, le nostre frazioni, 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 la storia. La storia, è tranquillo a te. Avete stato d'accordo con quello che tu dice? Sì, è un piacere, io vi ascolto sempre e cerco di seguirti nell'isola Remodina, naturalmente, io ce la metto tutta, vi voglio bene, lo sapete. Cose positive, insomma, l'appamento. Cerco di fare il mio meglio. Siamo tutti strumenti nelle mani di Dio. Io cerco di fare il mio meglio, siamo talchi a questa cegna.